D'accordo, secondo me faremo molto presto. Io penso stasera che abbia finito tutto. Ehm, malleabile. Il Museo Carlo Zauli, secondo me, non è un vero museo e c'è un'area di freschezza, di creatività o di spontaneità che non è facile trovare nei musei in giro per l'Italia. Penso che sia un'unica questa atmosfera. Penso che sia un'unica, non è un'unica, non è un'unica, non è un'unica, non è un'unica. Allora, stiamo lavorando da circa due giorni qui al Museo Carlo Zauli. Ehi, già incomincia. Sì, sì, ma è chiaro. Dopo va mantenuta, capito? Ogni dieci minuti sarà da annaffiare. Abbiamo la zolla. Ed è fatto. Ehi, già incomincia.